Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questa è la 51esima uscita delle miniature di Naruto, Tobirama Senju, il secondo Okage. L'ultimo Okage che mancava, infatti gli altri 4 sono già usciti, diciamo gli altri 7 se proprio li vogliamo contare tutti, contando anche Danzo, Kakashi e Naruto, sono già usciti tutti. Mancava solo Tobirama e adesso eccolo qua, fratello di Hashirama Senju, vabbè, queste cose qua le sapete. Quindi ragazzi non mi perdo troppo in chiacchiere, vi ricordo solo che se non avete visto le recensioni delle altre miniature di Naruto, le trovate tutte in descrizione, c'è la playlist con tutte le miniature di Naruto, e sempre in descrizione trovate anche la playlist con tutte le miniature di One Piece. Via via che escono, insomma, viene aggiornata. Poi ricordatevi anche di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale, ce la posso fare. Passate dal profilo Instagram, attivate la campanellina e niente, direi che detto questo possiamo anche cominciare. Andiamo a vedere un po' la nostra confezione, il fascicolo ovviamente è già un po' tutto piegato, solo quest'angolino qua, un po' là in fondo, insomma abbiamo visto di peggio. Ormai con la di Agostini non dico più è bello o è brutto, dico è brutto o abbiamo visto di peggio. Vabbè, comunque prima di tutto guardiamo il fascicolo, quindi vediamo un attimo la miniatura. E ragazzi, direi che potete lasciare like anche solo per il fatto che tirando fuori tutto dalla confezione non è diventato tutto arancione, quindi ottimo. Detto questo andiamo a vedere il fascicolo, c'è Tobirama in copertina, guardate la magetta dell'arancione, ah eccolo qua. Tobirama Senju, altri personaggi legati a Tobirama, qua hanno messo Jinkaku e Kinkaku e Hachirama, vabbè il fratello per forza. Poi, la tecnica del trasferimento lampo, qua anche con gli altri Okage, quando viene risuscitato da Orochimaru. Vediamo il poster, madonna ragazzi, ma questi ultimi poster sono tutti uguali, cioè belli ok, perché ci sono delle belle scene, questa, questa, questa qua con Orochimaru. Cioè ci sono delle belle scene, però ragazzi sono tutti uguali, cioè gli ultimi poster sono veramente tutti uguali. Cioè, alcuni frame dell'anime messi così su queste due pagine e basta, cioè i poster dovrebbero essere un'immagine unica. O comunque, finora, nel senso molti sono così e dovrebbero essere così, almeno secondo me sono più belli. Cioè, sono belli anche così, però ragazzi non sono proprio poster, cioè, ma poi tre di fila. Cioè, boh. Speriamo che il prossimo sia meglio, vedremo. Comunque ci vista anche questo poster, eh, non, cioè, non intendevo che sia brutto, ecco. Però, insomma, penso abbiate capito cosa voglio dire. Poi, i migliori momenti di Tobirama Senju. Qua, Danzo e Sasuke, vabbè. Qua, neanche un'immagine. E poi, ragazzi, il nostro solito Naruto è qua alla polizia della foglia. La fine degli Ushika, vabbè, non c'entro con Tobirama, comunque. E ragazzi, a proposito di questo Naruto, la prossima uscita è Naruto modalità chakra. Bene, abbiamo visto tipo cinque Naruto tutti uguali. Uno similissimo a questo c'era, quello con il chakra della volpe, o con il chakra dell'eremita delle sei vie. No, forse dell'eremita delle sei vie, sì. Ma, raga, che sta succedendo? Che, che, che sta succedendo? Avete visto la luce? Vabbè, comunque sia... Vabbè, prendiamoci anche questa uscita, la 52esima, la vedrete prossima settimana, in teoria, se la D'Agostini non cambia qualcosa. Comunque, raga, questo era il fascicolo, direi adesso di passare alla miniatura. Eccola qua. È abbastanza alta, come potete vedere. Comunque, adesso apriamola e vediamo un po' com'è. Stranamente anche chiusa per bene. E' incredibile, raga. La D'Agostini mi stupisce. Non avete idea, raga, mi sono fatto un male cane perché ho pigiato col dito qua. Poi, si apre, ci ho pigiato fortissimo perché non sapreva se è aperto e ho picchiato qua, con tre capelli appuntiti. Ragazzi, non avete idea, al dolore. Mamma mia. Comunque, vabbè. Brutte esperienze a parte. Apriamo questa miniatura. Leviamo tutto il cartone qua dietro. Leviamo la plastica. E ecco qua il nostro Tobirama Senju. Il secondo Okage. Base, ovviamente, col nome, ma adesso la leviamo per vedere com'è fatta la miniatura. Sì, ormai sono quelle frasi che in tutti i video delle miniature le ripeto. Però, ormai è giusto così. È diventata tradizione. Comunque, ho dato un attimo un'occhiata a Tobirama. Sembra fatto molto bene. Stranamente non vedo grosse sbavature. Poi magari se mi soffermo un po' di più le trovo, eh, perché mi sembra strano non ci siano. Però non vedo grosse sbavature. Mi sembra... Sembra fatto molto bene, raga. I capelli ricordano un pochino Kakashi. Però guardate, comunque i dettagli ci sono. Cioè, anche la posa... Una bella... Una posa dinamica, abbastanza. Guardate. Cioè, è fatto bene, raga. A tempo, all'inizio del video, ho detto... Dico sempre. O è fatto male, o... Abbiamo visto di peggio. Invece no, ragazzi. Questo è fatto proprio bene. Cioè, ci sta. Due cite, ragazzi, fatte bene. Incredibile. Kaguya dello scorso video era fantastica. Cioè, della scorsa miniatura. Però anche Tobirama ha... Niente male, davvero. Guardate. Mi soffermo anche più sui dettagli del volto. Le braccia. Guardate, tutta questa bella pelliccia qua. Tanta, tanta roba, raga. Sono contento di come l'abbiano fatta. Bene. Ve la faccio vedere velocemente ruotandola un po' così. Almeno per farvela rivedere per bene tutta. Se davanti che dietro, di lato e... E tutto, insomma. E niente. Bene, meglio così. Bene, raga. Questa era la 51esima uscita delle miniature di Naruto. Tobirama. Anzi. Tobirama Senju, il secondo Kage. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Fatemi sapere, appunto, cosa ne pensate di questa miniatura, se anche a voi sembra fatta bene. Ditemi se anche voi state comprando queste miniature di Naruto. Se prendete solo quelle dei vostri personaggi preferiti. Insomma, ditemi un po'. Io per adesso le prendo tutte. Ecco un'altra frase che, come da tradizione, va ripetuta in tutti i video. Inoltre, se non avete visto le altre recensioni delle miniature di Naruto, trovate in descrizione la playlist con tutte le miniature di Naruto e trovate anche la playlist con tutte le miniature di One Piece. Per tutto questo, raga, vi ringrazio per aver visto il video. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga. Grazie.